benvenuti cari follower quindi domani giovedì 3 ottobre 2024 un allarme per tutta l'italia sul rischio di un uragano molto forte ma prima spero che condividiate questo avvertimento con quante più persone possibile per evitare il rischio di perdite materiali o umane dovute a condizioni meteorologiche molto avverse sostienici anche premendo il pulsante mi piace per questo video grazie domani giovedì un temporale molto violento entrerà in italia con tempo molto brutto al nord al centro e anche al sud con forti venti un notevole calo delle temperature e nevicate sulle alpi e zone prealpine domani giovedì quindi è prevista neve sull'alta valle d'aosta a nord di trento alto adige friuli venezia giulia veneto pioggia molto forte e tempo molto brutto liguria piemonte valle d'aosta lombardia trento alto adige friuli venezia giulia veneto emilia romagna toscana marche umbria abruzzo lazio molise campania estremo nord calabria basilicata nord puglia sardegna attenzione al rischio di grandi alluvioni soprattutto nel centro italia e nell'isola della sardegna il temporale sarà più forte al centro italia e potrebbe causare disastri importanti grazie a tutti Grazie.